Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo. Di Call of Duty buongiorno ragazzi, oggi ultimo giorno di drop quindi vi aspetta alle 13.30 il live. Iscrivetevi e seguitemi facendo tutti i vari passaggi che vi ho spiegato. Punti esclamatico drop lo scrivete in chat così seguite la guida. Vi aspetto sulla mia piattaforma viola 13.30, primo link in descrizione. Spaccate questo video informativo, non vi chiedo un numero ma mi aspetto qualcosa di assurdo perché sentirete delle bombe nucleari. Salterete ragazzi dalla sedia. Poi Instagram per tutte le ultime notizie in tempo reale sul mondo di Call of Duty. Partiamo subito perché giovedì di questa settimana, 23 luglio quindi fra due giorni, alle ore 17 ci sarà l'evento di Xbox dove come abbiamo visto per Playstation saranno annunciati i giochi first party. Quindi seguiremo l'evento sulla mia piattaforma viola, mettetevi subito l'evento in agenda. Secondo il sito GameStat che ha realizzato un resoconto annuale analizzando lo stato degli utenti Playstation risulta che i titoli di Call of Duty, soprattutto Mother Warfare e Warzone si vanno a classificare nuovamente nelle classifiche dei giochi più popolari dell'anno, in particolare in Italia. Si classificano al secondo posto dopo FIFA 20 e seguiti subito da GTA V. Il 4 agosto Activision ha annunciato che terrà la riunione con gli investitori, ovviamente una riunione a porte chiuse dove vengono ovviamente riportati i risultati finanziari dell'azienda nel secondo trimestre del 2020. Chissà se Activision rilascerà informazioni e darà maggiori dettagli relativamente appunto all'uscita di COD 2020. Ma mettetevi comodi perché ieri sera, ragazzi, finalmente l'Infinity World si è svegliata e ha cominciato a far uscire materiale su Season 5. Nick Merckx è stato utilizzato appunto, tra virgolette utilizzato, perché come sapete Activision ormai punta soprattutto sull'influencer per far uscire notizie. Ha pubblicato un teaser su un presunto treno fermo alla stazione ferroviaria di Verdansk. Vi ricordo che il noto sito VGC aveva svelato il suo arrivo in occasione della Season 5 con anche l'apertura dello stadio. Sarà quindi questo il famoso treno che era stato trovato nei file di gioco e che si muoverà lungo le rotaie della mappa di Warzone? Entriamo ancora di più nel vivo della notizia. Sono iniziate quindi poi ieri sera le analisi del teaser ed ecco quello che è uscito fuori. Il teaser praticamente è ufficiale. Riporta la data del 5 agosto in alto come potete vedere, quindi conferma che questa novità sarà disponibile già all'inizio di Season 5. Il treno è fermo ma come potete vedere è diretto verso la stazione ferroviaria, quindi aumenta ancora di più questa conferma. Inoltre i Lakers ieri sera hanno confermato nuovamente che sarà letale, quindi potremo essere uccisi se passeremo davanti al treno e porterà dietro con sé un bottino. Altra importante informazione, l'influencer Nick Merckx ha spiegato poi come gli è stato recapitato il teaser trailer del treno della stagione 5. Praticamente l'Infini World gli ha mandato un pacco con una torre degli scacchi neri che potete vedere e all'interno c'era una chiavetta con questo filmato. Molti però si domandano quale sia il collegamento con il pezzo degli scacchi e il filmato ma a me è venuto subito in mente il gulag, però non riesco a collegare un qualcosa relativo praticamente a Season 5. Inoltre mi è venuto anche in mente il simbolo della compagnia di Shepard. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Chiudiamo il video informativo con quello che praticamente ci aspetta da questa sera con l'aggiornamento delle playlist. Nel multiplayer tornerà Shot the Ship 24-7, Scontro 3 contro 3 Cecchini e Guerra Terrestre Infetto. In Warzone invece avremo Battle Royale Singolo, Battle Royale Coppie, Battle Royale Terzetti e Quartetti, Battle Royale Coppie Incentivo il prossimo weekend. E Malloppo Quartetti. Peccato perché aspettavo veramente nuovamente Terzetti Incentivo che era stato veramente molto 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 bello. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate ragazzi. Finalmente tanta ciccetta sul fuoco per quanto riguarda Season 5. 13.30 ultimo giorno di drop da poter riscattare guardando le mie live Instagram. Per tutte le ultime notizie rimanete sintonizzati perché vi darò delle bombe nucleari nell'arco anche della giornata. E domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code.